aderisco a questa bizzarra proposta di farmi un video selfie da parte di remo bassetti non lo ambiento con uno sfondo nautico marino con una costa un porto come mi aveva suggerito come lui supponeva un po perché visto che la sua proposta è bizzarra mi piace fare qualcosa di diverso proprio in linea con questa bizzarria un po perché questa è la stanza che sto per abbandonare perché mi sto per salpare e andrò in libano e in israele con progetto mediterraneo per conoscere il mediterraneo ascoltare le idee del mediterraneo di cui abbiamo tragicamente bisogno il mare è quindi anche se non realmente lo sfondo del mio video selfie oltre che del mio libro raiz perché sono un marinaio sono un appassionato di mare e del mediterraneo segnatamente il mondo in cui viviamo in cui dobbiamo cercare le ragioni di un nuovo modello di vita e smettere di fare i follower di modelli non mediterranei non nostri naturalmente al di là di questo il vero sfondo è la crociera dello snark dove all'inizio in poche righe accade una cosa molto importante che manca tanto alle nostre vite sentite fu alla piscina di glen ellen che tutto incominciò di solito tra una nuotata e l'altra uscivamo dall'acqua per stenderci sulla sabbia lasciando respirare i nostri corpi all'aria calda e al sole rosco praticava la vela io ero andato un po per mare fu inevitabile parlare di barche si parlò di quelle piccole di come tenessero il mare prendendo ad esempio il capitano slocum e il suo viaggio di tre anni intorno al mondo sullo spray di certo non avremmo avuto paura di fare il giro del mondo con una piccola barca per esempio di 40 piedi dichiaramo e dichiaramo inoltre che ci sarebbe piaciuto farlo davvero fu infine chiaro che non ci sarebbe stato niente di meglio al mondo che avere un'occasione per farlo facciamolo si disse per scherzo poi in privato chiese a cermian se davvero ci tenesse e lei disse che era troppo bello per essere vero un'altra volta quando ci ritrovamo di nuovo sdraiati sulla sabbia intorno alla piscina dissi a rosco facciamolo dicevo sul serio e anche lui infatti disse quando si parte un pensiero una suggestione che deriva da un grande amore quello per il mare per la navigazione immediatamente diventa un'ipotesi quindi un progetto e quindi un'azione catena corta tra pensiero e azione occorre avere idee ecco perché giro per il mediterraneo anche per cercarle cosa che in questa epoca è molto difficile trovare le idee e poi il coraggio la determinazione per farlo diventare immediatamente azione e viverlo questa è la medicina contro la decadenza dal mio punto di vista grazie